Ciao, come ti chiami? Alessia Ciao Alessia Dunque, come sei venuta a conoscenza del musical delle meraviglie? Ho effettuato un precedente musical con questa scuola Abbiamo partecipato al concorso Fiumara Got Talent Sono stata tra i selezionati E ho fatto parte del coro del Fiumara Got Talent Benissimo, complimenti Grazie Quali sono invece le motivazioni che ti hanno spinto a candidarti Al cast del musical di Alice? Io sono una persona generalmente molto estrose Anche tanto, anche un po' evocentrica Per certi versi ho proprio piacere ad avere gli occhi puntati su di me Cosa che non capita proprio spesso A dire di no Invece, a quale ruolo o personaggio del musical ti senti artisticamente e tecnicamente più vicina? Beh, probabilmente mi sento molto vicina alla regina di cuori Se non altro come tonalità di voce Come fattezze fisiche E anche un po' come carattere, diciamo Quelli tiranno ma tiranno insicuro Non tiranno convine Quindi ti ci ritrovi in quel ruolo? Mi ci ritrovo molto, sì Benissimo Invece, quant'è importante l'aiuto della tua famiglia e degli amici Nella tua attività artistica? Beh, la mia famiglia ha un modo particolare di incentivarmi Nel senso che loro per certi versi non sono molto, come dire Non sono molto favorevoli a questo genere di attività Però poi sotto sotto, come a filmare Got Talent Vengono e che si emozionano Quindi capiscono che questa tua vena artistica Si, capiscono che ormai sono uscita così Si può fare Ormai sono uscita così E il danno l'hanno fatto loro a priori Ok, allora ti ringrazio e tanti auguri Grazie Ciao